Scusate ragazzi, aspettate, aspettate. Un'informazione. Quando parlavi di Bastoggi, cosa intendevi esattamente per realtà complessa? Giovanni, tu mi conosci, io sono ottimista della natura, però insomma, quello è un posto irrecuperabile. Ma irrecuperabile in che senso? Giovanni, a confronto a scambiare un centro benessere, una spa per farti la vita. Giovanni, tutto bene? No! Giovanni, tutto bene?